ciao a tutti e ben ritrovati allora oramai il profumo natalizio è sempre più intenso e c'è nell'aria voglia di far festa di stare più vicini a quelli che sono i nostri affetti più cari e la nostra chiara non è da meno tanto che con il suo davide è andata a trovare andata a trovare sono andati a far visita ai suoi cerini infatti il vlog che andiamo a commentare oggi porta proprio per titolo andiamo dai suoi cerini prendiamo le luci e scatoloni di natale oddio però letta così più che una visita di piacere sembra che sia un in più perché lo scopo principale appare più che altro il recuperare gli scatoloni lasciati lì a deposito però non è detto perché potrebbe essere anche una falsa percezione e quindi per scoprirlo con certezza non ci resta che guardare il vlog il vlog in questione inizia con davide e chiara seduti in auto e lei con un giubbetto che ricorda tanto il moncery della ferrero ma sono dettagli lui sorridente e felice ci annuncia che sono ufficialmente iniziati i vlogmas e inneggia al natale su questa frase di lui c'è un inserimento di una clip dove compare simpaticamente chiara che fa notare e sottolinea questa cosa wow che divertente quasi quasi ci sarebbe da disdire l'abbonamento a la sai l'ultima ma aspetta un secondo prima di prima di disdire e torniamo a quello che è il racconto perché perché abbiamo lui che annuncia la prima tappa di questa lunga giornata di commissioni che inizierà proprio con una visita ai socerini perché sentono tanto la loro mancanza perché vogliono sincerarsi che stanno bene niente di tutto questo vanno lì perché devono recuperare degli scatoloni con all'interno le luci di natale ecco piccolo aggiornamento dopo la visita ai socerini torneranno a casa ma non è definitiva come decisione quindi prendetela un po così con le pinze o con le molle pinze molle e magia del teletrasporto siamo in camera da letto della socerina visibilmente infastidita dalle continue riprese e con davide che le dice ma lo sai che ti voglio bene e la socerina risponde sì anch'io soprattutto a mia nuora e lo dice con un tono abbastanza strano nel frattempo che in atto questo siparietto poco puccioso in camera da letto della socerina c'è chiara che nella loro ex camera da letto circondata dall'enorme casino che hanno lasciato lì in giro si riprende attraverso lo specchio dell'armadio quello che è il suo outfit del giorno e dato che ci siamo vengo a descriverlo allora abbiamo un giubbetto imbottito stile in carto del moncheri come detto in precedenza maglietta rosa pastello con sul davanti un sobrio unicorno quasi a grandezza naturale dei pantaloni di colore nero e delle scarpe da ginnastica rosa alle sue spalle invece quello che sembra un chupa chups gigante di colore rosso forse alla ciliegia un tappeto rosa col pelo lungo due colonne di luci a led per lo specchio della toilette un palloncino a forma di cuore rosa tutto luminescente e tutta una serie di scatoloni accadastate al muro mentre di fronte a lei il vecchio armadio aperto con ancora sui ripiani vestiti peluche e tanta altra roba panoramica generosa della stanza allo stato attuale che appare stracolma di ogni si intravede la mitica porta soffietto e quindi è tempo di caricare nel porta bagagli la roba da portar via tutta roba di prima necessità ovviamente tra cui un orso di peluche a grandezza naturale una ghirlanda natalizia qualche pigiama l'enciclopedia dieta oggi con l'inserto istruzioni ai vari sgarri settimanali ed il vlog riprende ora da casa con davide che dopo questa impresa faticosa si è già pigiamato si dice soddisfatto perché hanno portato via un altro po di roba da casa dei suoi anche se a sistemarla tutta la vede un po dura dato che a casa loro è un continuo arrivare di nuovi pacchi e ora siccome hanno riperito tutto il materiale decorativo ci anticipa che in serata prepareranno il primo albero natalizio credo che il video inerente sia pure già uscito mi toccherà recuperare anche questo in giornata altrimenti resto troppo indietro o questi hanno una produzione di live e video che manco la fiat di torino negli anni d'oro del boom economico manco così e che cazzo ora a questo punto cosa succede succede che lui ci crede un tantinello rimbambiti perché perché ci fa il riassunto di tutto quello che è successo finora sono andati dai suoi cerini hanno preso le luci stasera faranno l'albero ok quindi ora che famo passiamo a quelli che sono i buoni propositi e cioè portar via tutto quello che è rimasto da casa dei suoi cerini vabbè che pure a casa della signora luciano non è che stanno messi tanto meglio a casino ma dettagli quindi cosa fa ora per rendere bene l'idea del caos che impera a casa loro ci mostra degli scatoloni impilati l'uno sull'altro circa otto contenente ognuno del materiale natalizio tipo casette lucine alzatine decorazioni varie beh ne apre poi una a caso e dentro c'è una scatola di latta con decorazioni natalizie una gamba di legno una scatola di tun e macchi di unto ovunque non lo so dato l'unto inizia ad ipotizzare che qualcuno mangi di nascosto al buio nello sgabuzzino vittoriano beh forse magari i propri panini con il tonno ma non c'è dato sapere e dopo questa ennesima fatica il vlog riprende dalla camera da letto più precisamente dal letto dove a sorpresa da sotto la coperta viene fuori chiara come una marmotta birchina birchina poi vi spiego perché a questo punto davide riprende quello che è il testimone e si augura che questo primo wedding vlogmas vi sia piaciuto io l'avevo immaginato fin dall'inizio che lui dice vlogmas ma non sa cos'è e questa è la conferma insomma allora lei cosa fa lo corregge con tanta dolcezza senza metterlo minimamente in imbarazzo e gli dice wepirla ma il wedding vlog è quello dei preparativi del matrimonio e lui ah già ok allora un attimo rifaccio tutto da capo spero che questo wedding vlogmas vi sia piaciuto buonasera proprio non gliela fa e allora cosa fa ripiega sul classico spero che il vlog vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia e iscrivetevi a tutti i nostri canali e così termina il loro vlog bene 10 minuti e 37 secondi della nostra vita che nessuno ci ridarà indietro e adesso ne ho anche un'altra di brutte notizie e cioè che anche il mio di vlog finisce qui non mi resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo video un bacio a tutti da gossip grazie 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 grazie